Ciao, sono Carlo Gualandri, sono l'amministratore delegato di Soldo, che è una startup fintech che è nata a Londra, da me che sono fondatore italiano e che ha una natura sia inglese che italiana. Fintech significa che facciamo servizi finanziari, li facciamo sulla base di tecnologie avanzate, siamo un attore regolato, che significa che siamo gestiti come una banca e vigilati dall'equivalente inglese e abbiamo costruito un prodotto per la gestione delle spese all'interno delle aziende che sostanzialmente vuole risolvere il come in un'azienda posso permettere ai miei dipendenti di fare spese e ottimizzare tutto il processo delle note spese, della raccolta delle informazioni relative, quindi qualcosa che facilita sia la vita all'impiegato che la vita all'azienda e la parte delle spese aziendali quando queste spese aziendali devono essere fatte con carta come normalmente succede nel mondo dell'e-commerce, nel mondo dei servizi e degli servizi online sostanzialmente. Quindi quello che noi abbiamo creato è un sistema, un account che permette la creazione di un numero qualunque di utenti o di dipartimenti aziendali ai quali possono essere dati dei contenitori di denaro in diverse valute, euro, pound, dollari americani e attaccati a questi contenitori di denaro possono essere create carte sia di plastica che virtuali, noi siamo issuer Mastercard, che permettono la spesa in un contesto di delega, cioè do la possibilità all'utente di spendere i soldi dell'azienda perché gli rendono la disposizione, gli do una carta per poterlo fare, di controllo perché tutto passa attraverso un sistema real time di regole che permettono di decidere che cosa uno può fare, che cosa no, in che quantità, in che momento della giornata può spendere i soldi o con budget o con delle restrizioni sull'uso delle carte e infine di rendicontazione che rende più efficiente tutto il processo che sta a valle delle transazioni sia nel mondo delle note spese sia nel mondo delle spese aziendali. Quindi una specie di mondo di prepagate super potenti e super efficienti collegate ovviamente a delle app per ognuno degli utenti che permette di avere in qualunque momento in realtà una visione del saldo e la possibilità di aggiungere arricchie le transazioni con la fotografia degli scontrini e con tutte le informazioni che sono necessarie per poi poterle gestire a livello contabile. Grazie